che si trovano ste cavolo di taniche da acqua per cazzo Invivibile, cos'è? Ti prego, Tanika d'acqua, ti prego! Uh, la scala, buono. Niente, oh, niente, niente, niente. Sì, e vai! Guarda, se ne trovo un'altra, sarai super contenta. Se ne trovo altre due, non sarebbe male. E vai! Sì, e vai. No, no. No, 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 no. Ma come time out? Porca miseria. Dai, a dieci metri da casa, ma non scherziamo. Ci sono? Ok. Oh no, meno male, costa solo 75. Yes! Dai, ti stai caricando, dai, sì. Dimmi di sì. No, che... Santa pazienza, io dico... Di nuovo, di nuovo. Però almeno sto giro sto dentro casa. Casettina, che carino. Quanto artistico sei. Cioè, questa cosa, boh, assurda. Però è divertente, quindi, ok. E' un altro piccone. Ah, ma no, ci vuoi rottare, quindi. Ehi, i pantaloni, vai. Ehi, il cramaggio, vai. Ah, sentivo bene i passi di... Di orzetto, aspettate. Lupo, ehi, stai andando alla direzione giusta. Vai, vai, vai. Di, di lì. Corri, 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 corri! Ah, però io... Ah, no, invece, non è male uno. Via, 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 via. Quindi, io ti faccio andare qua. Anche questo. Dovrebbe valere per ogni tipo di cibo. Madonna, che figata sta cosa. Ma comunque questo è molto carino, eh. Finalmente, se faccio così... Non sono in ordine. Eh, cosa un po' brigherà. Ma, 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 ok.